La canzone che stiamo per esempire, io l'ho sempre dedicata ad una donna, da ciò volevo io che la dedicavo, perché dedicavo di questa canzone il contenuto spirituale, non c'era niente di carnale, questa sera da questo patrocento c'è anche quello, perché la dediciamo in due, alla signora Mutti. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. La canzone, è la canzone che viene dalla terra del maestro, a Buchella. Grazie. Grazie. Grazie.